Ciò che viene dopo Alcuni maestri immateriali dicono che ciò che viene dopo è sempre più evoluto di ciò che viene prima. Altri maestri dicono che le civiltà passate, come per esempio la greca e la romana, erano più evolute della nostra grazie alle loro intuizioni spirituali più avanzate. Per questo sono trascorse. Allora, non è vero che ciò che viene dopo è sempre più evoluto di ciò che viene prima? Commento. Ciò che viene dopo è sempre più evoluto di ciò che viene prima? Si riferisce alla nostra civiltà e non a quelle trascorse. Allora, non è vero che è sempre più evoluto di ciò che viene prima? Allora, non è vero che è sempre più evoluto di ciò che viene prima? Allora, non è vero che è sempre più evoluto di ciò che viene prima?